Gentili telespettatori, buona giornata. Milano, manifestazione, la Schlein ci va. Ogni sabato va a cercare una manifestazione di piazza per partecipare, per dire che lei è con loro, molto spesso senza sapere neanche di che cosa parli esattamente la manifestazione. Come abbiamo visto l'ultima sabato scorso, dove non sapeva che tutte le cose su cui protestavano i grillini erano contro il PD. Informarsi prima di andare a una manifestazione, se sei il capo del secondo partito italiano, dovresti avere un certo modo di operare. Bene, oggi altra manifestazione, striscioni contro la Meloni e Schlein che canta Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, a Bella Ciao. Beh, insomma, mentre il mondo ha tutta la sua attenzione su quello che succede, successo in questo sabato, lei stava cantando Bella Ciao, 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 in una manifestazione con striscioni contro il governo. Ebbè, questo già dice tutto, questo già fa un quadro del politico Schlein. Pertanto anche questa manifestazione si trasforma, quella del Pride di Milano, nei fatti come una manifestazione contro il governo. E' il 24 di giugno 2023, ci sono i carri allegorici come nei carnevali. E poi c'è un'immagine sul primo carro di Giorgia Meloni con un photoshop, quindi la faccia della Meloni sul resto è del dittatore del secolo scorso in Italia. con manganello in mano, eh, con la scritta pregiudizio. E poi altri carri, chiamiamoli così, allegorici. Il solito copione. Manifestazione contro il governo, lei partecipa, dice le sue solite frasi dal palco, un successone, è una di noi. E poi, dice, siamo in pericolo. La Schlein dice che l'Italia è in pericolo, ma non solo l'Italia, anche l'Europa, per la regressione sui diritti. E poi parla sempre delle stesse cose, Alessandro Zan, la legge Zan, lei non dimentica che quelli del centro-destra hanno applaudito quando è stata bocciata la legge Zan. Non dimentichi, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, arriva una legge, chi la vuole approvare, chi non la vuole approvare, non passa, e quelli che non la volevano approvare applaudono. Insomma, lei vede invece questo come un gesto orribile, contro il quale è stata postata una legge di civiltà. Postata? È stata postata una legge di civiltà. Post, postata? È stata proposta, non postata. Ma che cavolo vuol dire? Ma che postare? Sì, sono quei nuovi termini, però io non userei postare una legge di civiltà. Beh, poi dice, a parte la legge postata, ci sono contro l'addio, le discriminazioni, di cui invece si sente molto il bisogno. si sente il bisogno delle discriminazioni. Ma cosa dice? Le persone discriminate aggiunge ogni giorno per il loro orientamento e per l'identità non possono più aspettare. mentre la folla intonava bella ciao e lei cantava esaltata al settimo cielo. Le persone discriminate o per identità o per orientamento non possono più aspettare. Bene. arriva anche il Zan, quello da cui poi derivava la legge Zan, e dice questo, le persone sono arrabbiate perché il governo di destra sta attaccando in maniera vergognosa le loro famiglie e i loro figli. quando è accaduto con la procura di Padova e altre procure che vogliono annullare gli altri atti dal 2017, parliamo di bimbi che vivono con le loro famiglie e che per decreto rischiano di perdere la loro famiglia. È vergognoso usare diritti e vite delle persone per speculare, afferma il parlamentare che non fa riferimento alla sentenza della Cassazione che ha chiesto di non trascrivere automaticamente i certificati di nascita dei figli nati all'estero con gestazione per altri o procreazione assistita nelle coppie omogenitoriali, ma tant'è. I magistrati non stanno nient'altro che applicando la legge e poi io volevo dire questo, il PD si lamenta del MES e si lamenta di questa famosa legge Zan non approvata ma se dieci anni che siete al governo con questo o con quell'altro dieci anni di governo e non siete riusciti in una mattina a approvare la modifica del MES non siete riusciti ad approvare questa famosa legge Zan e se non ci siete riusciti in dieci anni perché adesso insistete che la Meloni è una specie di mostro quando avete avuto dieci anni non avete fatto nulla guardate che dieci anni sono tanti in dieci anni si possono fare due lauree e voi non avete trovato una mezza giornata per approvare il MES e per approvare la legge Zan per fortuna che non avete trovato questo tempo però insomma dieci anni non fate niente e poi la Meloni la Meloni la Meloni che è lì da otto mesi beh questo rasenta rasenta completamente il ridicolo eh governano dieci anni e poi sbraitano per otto mesi perché la Meloni non fa ma dovete farlo voi la Meloni non lo fa non è neanche nel suo programma non ha nessuna intenzione non è favorevole a certe cose poi vedremo come finirà con il MES grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che c'è anche Teleitalia seconda rete dove trovate video di politica di notizie e di fai da te poi questi video sono condivisi sulla pagina nella pagina che si chiama Teleitalia Teleitalia su Facebook grazie a tutti e arrivederci a presto